Ciao Halle Ciao Ciao Che bel nome che hai Che bella Ma continui a girare Sto per vomitare Gira per sempre Non lo so se gira per sempre Mi sta dando fastidio Penso che rimarrà sempre così Mettiti a girare Non ci credo Sto andando velocissimo No ma vomita aspetta Allora lo rimetto lontano Non ci credo Guardaci da lontano Guarda E ragazzi come va Io sono Fereniki E io sono Steph E che stagione giochiamo a Roblox E oggi andremo a giocare ad un Taekwondo Davvero molto molto particolare Come sempre Perché sai cosa dovremmo fare Ok Costruire un intero parco giochi Totalmente da zero Guarda abbiamo tutto lo spazio vuoto Nessun bottone da premere come al solito Ok E quindi avremo totale libertà Ma quindi ci dà una schifezza Perché lo facciamo noi Sì perché non abbiamo buon gusto Di costruire le cose Ma almeno ci proveremo In pratica funziona così Ok Tutte le giostre E tutte le cose Le possiamo mettere esattamente Dove ci pare Ok Quindi diciamo che poi Ogni parco giochi Sarà ovviamente diverso dall'altro E possiamo fare quello che vogliamo È fantastico A me c'è una cosa che piace tantissimo Leggere Steph 2317 Eden Park Perché è il mio parco giochi Signor maialino Non ne ha uno Tu non ne hai uno E il mio è bellissimo No io ne ho uno È già costruito Ma non te lo faccio vedere È vero Perché ovviamente Io e il signor maialino Abbiamo fatto un lavoro migliore Di quello che tu potresti fare Non ti ci vogliamo far rimanere male Ma guarda Comunque Comunque Ho già visto che hai messo la prima giota Esatto È molto molto carina Guarda come sono felici i clienti Guarda come sono felice Aspetta ma voglio stelire anch'io No non puoi Lascia in pace i clienti Lascia in pace i clienti poverini Salve Salve Lasciali in pace Mi posso sedere anche io Ne ho fatto sparire uno No L'hai visto Sei dentro a lui Siete in due nello stesso punto Vedi Che sei un po' bionda e un po' rosa Io non lo vedo Io non lo vedo Vabbè dai scendo Scendo Poverino Comunque Allora spieghiamo velocemente un pochettino Come funziona Ok Questa ovviamente è l'entrata Da qui entrano i clienti Esattamente E come avete visto Come finisce il giro della giostra Da qui escono Quindi ogni giostra dovrà avere Il percorso di entrata E il percorso di fita Sì Molto semplice Come nella realtà Ho il primo incarico per te Sei felice? Sì Guarda dietro di te Vedi che c'è un po' di polvere Pulisci No è spazzatura questa Ecco pulisci Oggi mi sento gentile E ti concedo di scegliere Se fare prima L'Observation Tower Oppure la Vintage Cars Non so bene cosa siano Però puoi scegliere Allora La Torre d'Osservazione Penso che sia Quella che va in alto Ecco sì Quella Perché comunque i giochi Sono quelli che poi trovi Anche tu nei parchi giochi Esatto Invece la Vintage Car Che cos'è? Credo che sia Una macchina Che tu piazzi E poi lì devi fare Un circuito Dove fa tutto il giro No dai proviamo questa Così vediamo poi i clienti Che se ne vanno in giro Nel circuito Dai proviamola Proviamola Allora Io ci provo Sarebbe Ok Non posso girare Allora Ok È difficilissimo Ci sono delle Oh Guarda il mio schermo Che succede? Guarda il mio schermo Ok Fai un percorso semplice Non hai capito quanto è difficile Voi non avete idea Di quanto c'è voluto Cioè È stato difficilissimo È stato complicatissimo Riuscire prima di tutto Unire la pista Perché se non facevi Un cerchio completo Non ti considerava La porta di entrata E la porta di uscita Esatto Quindi i clienti Non potevano ne entrare E ne uscire Quindi dopo due ore Ce l'abbiamo fatta Devo ammettere Che è stata la giostra Più difficile da costruire Questa con la macchinetta La volevo provare Ma è stata davvero complicata La proviamo La voglio provare per prima Allora L'è aperta? Sì Ma ci stiamo in due Sì 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 F F F Guarda No 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 Scusi Ok un cliente è entrato Dentro di me Vabbè Ma come va avanti Secondo te? No adesso credo Che parta da sola Quando salgono i clienti Perché tu non vieni Consigliato come cliente Vabbè ci mettiamo Sopra i clienti Non succede nulla Oh mio Dio Che carina Oh mio Dio Ok Oh mio Dio Sei pronta? Oh guarda È pericolosissima Questa salita Una velocità Incredibile Siamo troppo veloci Guarda che se Che se non ti tini bene Cadi di sotto Da quanto è veloce Comunque è carina dai È stato davvero difficile Fare la pista Avremmo potuto fare qualcosa Di un po' più carino Ma direi Che per quanto era complicato Siamo almeno riusciti A farla funzionare Ed è una cosa fantastica Inizia già ad aumentare il prezzo Perché questa è un'esclusiva Sì sì È un'esclusiva del parco 18 dollari l'uno Dammi un nome Dammi un nome Che gli diamo anche un nome carino Alla pista Alla macchinetta Sì 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 La corsa di signor maialino No Signor maialino race No E allora sceglitela da solo Qualcosa che non ha signor maialino Ma è carino No È carino E allora facciamo La corsa della morte Perché è talmente veloce La corsa della morte Così capito Inganiamo un po' i clienti Li facciamo credere Che sia una cosa super spaventosa Invece no Mi piace Così almeno vale il prezzo del biglietto La facciamo salire fino a 20 dollari Addirittura Tantissimo Sì ma Tantissimo Adesso non perdiamoci in chiacchiere Perché abbiamo due giostre C'è un sacco di clientela Però ci sono 2000 cose che non va Prima di tutto Non abbiamo dei cestini Assolutamente La gente butta per terra le cose Guarda quanto stanno sporcando Guarda Lo so E tu non puoi neanche pulire Ti sembra? Sì io non posso pulire Perché è tuo E sono dei maleducati incredibili Guarda Siete dei maleducati Però non si butta in terra Non insultare i clienti Sì che li insulta No Il mio compito Non è il mio compito No non è il tuo compito Chi l'ha deciso Che se avrebbe stato quello il tuo compito Io Allora no E altrimenti che ci faccio qua Scusa E altrimenti che ci faccio Che stai costruendo? Allora Fammi sapere cosa stai costruendo Pensavo di fare così Senti se ti piace Ok In questa strada Che diciamo un pochettino Il centro del parco Sì esatto Mettere un po' di negozi Dove si mangia Ok perfetto Ci facciamo magari anche un parchetto dietro Perché ci sono un sacco di cose Da poter mettere Brava Pensavo Si possono mettere anche i tavolini Oltretutto Quindi dietro possiamo mettere i tavolini Che stai facendo? Così Bevande, pizza e gelati Giusto? Bello questo Ma io posso comprare secondo te? Dammi il gelato Dammi il gelato Subito Subito Lascia in pace Tu vestito così Dammi il gelato Stanno lavorando seriamente Esattamente loro Bellina questa zona mi piace molto Mi piace davvero tanto Cosa ci mettiamo? Fammi vedere qualche tavolino carino No stavo controllando un attimo per i cestini Scusami Perché No devi mettere R Se non metti R Non te lo metto nel lato Vedi devi farlo proprio al lato Ah brava Non lo sapevo questa cosa Ho già provato Anche io ho avuto diversi problemi con i cestini Ne mettiamo uno qui Uno qui Uno qua Vero? Mettine tanti Così non hanno più scuse Non buttano più le cose per terra Ne ho messo quattro Dovrebbero bastare Poi pensavo di mettere un po' di luce Decidiamo che giostra aggiungere Perché i soldi comunque noi li facciamo da quello Quindi bisogna assolutamente aggiungere qualcos'altro Allora secondo me poi devi fare anche un sentiero qua A chiudere questa zona della pista Perché poi magari anche dietro la pista riusciamo a mettere qualche altra cosa Qualc'altro Ok io pensavo di mettere la torre d'osservazione in un posto tutto suo Ok ok Quindi praticamente pensavo di allargare ancora un pochettino di più questo sentiero Vai Sì fammi vedere Fammi vedere Questa è un'idea bella Ok Questa è un'idea bella Poi praticamente Anche perché di solito nei parco giochi queste torri sono un po' isolate dal resto Stai mettendo alberi? Sì Ok Facciamo una specie di recinto di alberi E dentro questo recinto di alberi ci sarà appunto la torre d'osservazione Ti piace? Può essere carino Sì 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 Ok meno male che E le entrate le uscite verso questa parte giusto? Sì Questo è perfetto Facciamo così Così un pochettino più grande Così perfetto Ti piace? Sì 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 mi piace Ovviamente tappiamo qua un attimo Ovviamente andiamo a provarla subito Ok Andiamo a provarla subito Aspetta ma non l'ho ancora aperta in effetti Aprila Allora Open Vai Già pronta qui Su Venite clienti Venite a provare la nuova giostra La nuova attrazione dello Steph Parco Giochi Non so come l'hai chiamata Eh no sì è brutto il nome Non me lo faccio ben postare È la nuova attrazione Su 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 Allora quanto lo facciamo a pagare questa? Che dici? 25 Esagerata No Per ora facciamo 15 e vediamo se piace Allora perché me lo chiedi? Perché me lo chiedi? Guarda l'hai visto Luciano? È venuto e segnalato Luciano Quello lì era Luciano Guardalo guardalo Aspetta No 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 andare a distruttarlo Signor Luciano Signor Luciano deve venire nella giostra Venga vada Lasciami in pace Vada Si muova Ma poverino Deve salire Cioè si devono sentire a casa quando sono nel parco giochi No non si deve più permettere L'entrata è dall'altra certo che poi non entra poverino Lo stai confondendo Allora secondo me sai che cosa è successo? Sì Che non possono fare questa curva quando entrano Perché? Guarda lì Vedi che va No vedi Ah no ce l'ha fatto Vedi vedi E allora è il signor Luciano che non ha capito nulla Scusi Signor Luciano Ok lui ha accettato di pagare il prezzo Vieni dentro che forse sta partendo Corri 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 Non la posso perdere Ok ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Forse Ok sono pronta Siamo talmente Ok 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 Guarda Ma gira pure è fantastico Mettete in prima persona È fantastico Io so proprio divertigine No guarda le giostre sono fatte davvero Davvero bene Guarda te lo dico Sono fatte davvero bene Sto so prendendo divertigine Aiuto Ma ti dito È una figata Guarda la nostra macchinetta Che sta andando avanti lì È carilissima Bellissimo È bellissimo Siamo in compagnia di Halle Ciao Halle Ciao Ciao Che bel nome che hai Che bella Ma continui Sto per vomitare Gira per sempre Non lo so Non lo so se gira per sempre Mi sta dando fastidio Penso che rimarrà sempre così Mettiti di girare Ma scusa Hai costruito una giostra E ti dà pure fastidio Ma come è possibile Sta scendendo Ok Voglio un'altra giostra Esatto Facciamo un'altra giostra Ma prima di tutto Sai che possiamo aumentare i prezzi Anche delle varie posti Dove si mangia? Ma sei un tiranno davvero Ma che tiranno? Come è possibile? Allora Il soft drink Allora ascoltami un attimo La pizza perché pizza A 14 E il gelato A 13 Ok Ok Dimmi Ascolta Metti qualche tavolino qui dietro Che rimane un pochettino vuota Questa parte Poi andiamo a costruire La nuova giostra Ok perfetto Vediamo cos'altro possiamo costruire Allora Non mi ricordo dove erano Quindi li sto un attimino cercando Secondo me erano da queste parti Ok No Non erano qua No sono Eccoli Vuoi quelli con il Con l'ombrellino Con l'ombrellino Fai alcuni con l'ombrellino Alcuni un po' diversi Fai un misto Dai Tipo pensavo Aspetta perché devo girarli Ok così Sì Così Esatto E poi tipo E magari qualcosa altro qui dietro Qua Eh esatto Qua qua Così Addirittura così tanti Sì dai Così questa è tutta la zona ristora Una zona ristora Esatto Dove le persone si possono studiare e mangiare La collego anche con il pat Sì dai Perché no Potrebbe essere carino Tipo così Sì 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 Collegali magari anche tra di loro Esatto Rimane un po' Un po' vuota Ecco così Così Bellino 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 No cioè guarda dall'alto Che figata Dall'alto sì Inizia a prendere forma È davvero davvero carino Siamo bravissimi Sono felice Io ero già sicura Quando ho visto questo take Avremmo fatto una totale schifetta No dai Ho detto adesso ci impegniamo Esce bruttissimo Invece ti dirò Sta uscendo davvero carina Tieniti forte Ok Questa è l'ultima costruzione Che facciamo per questo primo video E sarà un intense rides Quindi qualcosa di più estremo Allora vedendo l'anteprima da lì Scommetto che quello che va in alto in alto E poi ti butta giù di colpo Però Possiamo scegliere tra quello Tra il Space Rings Tra il Twister La nave Quella che dondola Io non ho mai fatto mezzo di questo Neanche io Neanche io Ho troppa paura Però ci possiamo permettere O la Drop Tower O il Space Rings O il Twister O la nave Vediamo È aperta L'è aperta Cliente cliente vieni Sì 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 Vai Mosè 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 Vieni Vieni su sali Che se non sali tu non sale nessuno Esatto Vai sono curiosissimo Io non ho idea di cosa possa essere È andato a tutto posto Ma l'hai capito cosa può essere? No Non capisco Non capisco Ah è su di me Io non li vedo Però va bene Ho un po' di paura però eh Guarda quanti ne arrivano Questo è bello Ma che accidenti è? Voi in prima persona? Non ci credo Sto andando velocissimo Sto andando velocissimo No ma vomito Aspetta Allora lo rimetto lontano Non ci credo Guardaci da lontano Guarda È fantastica È davvero fantastica Bellissima È bellissimo Bellissimo Beh almeno è stata carina Almeno è stata carina Mi ha deluso un po' Per il fatto che Minusca la per è carina Aspetta che aumento il prezzo Bravo Intento 15 Mi sembra giusto Sì E qua quindi Per concludere Anche se avevo detto Che questo era l'ultimo Mettiamo il drop tower Così Qui in mezzo Proprio Vabbè sì ci sta Ci sta Ci sta Certo Tipo qui Bim Esatto L'entrata Qui E qui Proviamo anche questo E poi finiamo Dai proviamo anche questo E poi finiamo Questo però per forza In prima persona Qua sta arrivando qualcuno Sì 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 sono posizionati Vai prima persona Ma fanno troppa paura Sto giustre Ce le dico Fanno troppa paura Sei pronta? Sì sì Ci siamo formati Tre Due Uno Uuuuh E lentissimo No oddio Ho fatto un po' Una discesa un po' veloce No però è carino Dai è stato carino Anche questo da provare Sì bellino Bellino Mi piace un sacco Aumentiamo un po' il prezzo Perché dai Questo 15 se li merita Quello degli anelli Non sta piacendo Comunque questo Tycoon è davvero epico Io ci vorrei personalmente Fare una miniserie Sì assolutamente Perché ragazzi Ci sono due miliardi Di cose che si possono fare Cioè possiamo addirittura Cambiare il terreno Scavare Andare verso l'alto Per fare cose sotto terra Se miglioriamo un po' Si può fare roba epica Quindi la vorrei fare Davvero una miniserie Quindi fateci sapere Nei commenti Se vi piace Se volete vedere altri video È davvero divertentissimo Mi è piaciuto troppo È bellissimo Io l'adoro E poi anche avere Tutta questa libertà Nel costruire È davvero fantastica Poi tanto se saremmo scarsi Ci daranno consigli Consolini E secondo me Uscirà un parco giochi Spettacolare Esattamente Beh ragazzi Prima di farci così Se vi è piaciuto Sceltici un bel like E se è la prima volta Che vedete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao